Sono Fabio Mauro Tommaso Gallo, chef e titolare del ristorante Oltre insieme ai miei due soci e sono membro della Nazionale Italiana Cuochi. La mia storia nasce dalla Puglia fino ad arrivare in Romagna, una regione altrettanto ricca di storia gastronomica e dal di qua ho cercato di sviluppare la mia passione e il mio percorso lavorativo abbinando magari le mie passioni al modo di lavorare. I vegetali nei miei piatti sono assolutamente predominanti. Per me è surgelato assolutamente sì, soprattutto se è di una grande azienda come quella di Orogel perché ti permette di tenere uno standard continuativo nel tempo e molto elevato. Per questa giornata ho deciso di preparare tre menù. Vedremo delle fusioni tra Puglia, Romagna, la Val Marecchia e l'immancabile mare Adriatico, tutti ovviamente con la presenza di vegetali.